che buongiorno come state e volevo fare questo piccolo video per salutarvi oggi da me in città c'è un mercato rionale e fatto un piccolo giro anche perché ci sono 33 gradi qui da me in puglia e toccate fuga e niente volevo farvi vedere dei piccoli acquisti che ho fatto ho preso queste ciabattine estive diciamo modello simile a hermes pagate 6 euro mi piacciono tanto queste ciabattine l'estate e le volevo bianche ce l'ho anche color cuoio piccolo tacchetto sono comode e imbottite all'interno e poi alla mia solita bancarella di bijoux ho preso questi orecchini a tutti gli orecchini a un euro e c'erano anche lilla però dalla telecamera non sembra però è tra un verde tiffany e un turchese più o meno con gancetti così niente oggi uno shopping di 7 euro sono molto contenta vi auguro una buona giornata un buon pranzo e ci vediamo presto ciao